Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Si ritorna. Si ritorna a casa. Sono arrivato a Itaca ieri. Ho bruciato la fotografia come mi ero prefisso. Poi sono andato in piazza a un bar a bere qualcosa di fresco. Mentre ero seduto tranquillamente mi sento chiamare. Mi volto una coppia di amici italiani che conosco da anni. Erano in vacanza a Itaca. Sono andato a cena con loro. Loro oggi tornano a casa. Ho detto, vabbè, questo è un segno. Torno insieme a loro a casa. È strano vedere come le vie dei viaggiatori si incontrano sempre in qualche modo. E allora sto tornando. Sto tornando perché sembra scontato dirlo. Ma alla fine i viaggi sono tutto quello che accade fra la partenza e l'arrivo. Itaca era un punto di arrivo ideale. Per ricominciare qualcosa. Fondamentalmente per dare una nuova linea editoriale al progetto vostro. Continuerò a viaggiare. Continuerò a raccontare i miei viaggi. In tutti i modi. Anche con il camper, ma a piedi. In tantissimi modi. Anzi, la settimana prossima mi aspetta un altro viaggio. Questa volta con il camper. E ne approfitto per farmi pubblicità. Siamo aiutati a condividere la pagina. Mi fa piacere. Itaca era il posto che dovevo raggiungere. È stata molto dura. Ma c'è stato qualcosa di bellissimo. Di magico. Di meraviglioso. Io gioco a rugby. Anzi, devo fare pubblicità pure alla mia squadra. Non ne ha rugby. I grifoni. Perché sennò quando torno a casa mi placano una volta di più. Io gioco a rugby, stavo dicendo. E nel rugby c'è una parola molto bella. Che si chiama sostegno. Quando tu stai andando verso la meta. Quando stai correndo verso la palla. Sai che hai il sostegno della tua squadra. Il sostegno di un tuo compagno. Non è una cosa psicologica. Psicologicamente ti spinge molto. Però sai che in ogni momento. Qualcuno ti dovesse placare. C'è sempre un compagno pronto a raccogliere la tua palla. E ad andare a meta. Ecco, in questo viaggio. Il sostegno. L'ho avuto da tutti quelli che mi hanno seguito. E quelli che mi hanno aiutato. L'ho avuto da chi mi ama da lontano. Da chi mi ha aiutato. Con i video. Ma anche. Chi mi ha scritto. Tutti quelli che magari sono venuti. Sulla mia pagina. Che hanno seguito il mio viaggio. Che mi hanno ringraziato pure. Per. Per il fatto di viaggiare tutti insieme. Ecco. A tutti quanti. Da il mio personale ringraziamento. Perché è stato un bellissimo sostegno. Quando magari facevi tanti chilometri a piedi. E ti dicevi. Ma ce la farò. È molto pesante. Poi leggevi che magari qualcuno ti mandava un messaggio. Ti diceva. Sto viaggiando insieme a te. E quello. Era il sostegno. E andavi avanti. Quindi. A tutti quanti. Grazie. Di solito finivo gli altri video. Dicendo. Itaca è sempre più vicina. In questo caso. Itaca. Eccola là. Miglio dopo miglio. È sempre più lontano. Però se vogliamo. È più vicina. È più vicina nel senso che. Ogni viaggio. È un ritorno ideale. A qualche posto. Itaca. È qualcosa che. Dobbiamo sempre avere dentro. Parafrasando Cavafis. Sempre il tuo primo pensiero sia Itaca. Ogni viaggio. È un ritorno. Verso Itaca. Quindi. Torno a casa. Ma. Continuo a viaggiare. L'importante è non fermarsi mai. E se ci si ferma. Magari pure per un caffè trego. Può fare solo bene. Grazie a tutti. E' un'altra cosa per arrivare a Basilica. Verso Itaca. Sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.